Parpalli in modo corretto, i due concorrenti nella prima finale ed il loro tempo indicativo è di 8,90 viene la partenza anche per questi due atleti, Russo e Picacco 9,23 partita la prova anche per questi atleti, Carlucio e Sprint 9,18 9,64 partita la prova anche per la batteria nero 5 8,80 8,89 8,89 9,83 anche bene anche quest'anno finale ed il loro tempo è di 9,15 8,70 il tempo 8,60 un tiro di rendimento della prova anche per l'ottesima finale 8,63 Parpalli in modo corretto, questa volta è crea politica l'ultima finale di 50 spetti in corsia i sovieti maschi e chiudono con 8,67 grazie 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 grazie